eccoci qua altre side quest ragazzi e non solo side quest guardate che c'è qua madonna mia qui si è aperto si è aperto il mondo si è aperto madonna mia dovrei avere fino a qua sotto i frutti del suo lavoro indubbiamente e poi non era sì di quello che diceva che queste cose è meglio lasciarle ai dominanti soprattutto se una delle sue amate opportunità di crescere e cambiare dovesse presentarsi torgale ha sentito qualcosa ho sempre saputo che un giorno sarei tornata tornata a ferralia per cosa scoperta la verità tu hai potuto affrontare il passato se ho intenzione di continuare al tuo fianco dovrò fare lo stesso certo perché lei è stata adottata da elwin lo affronteremo insieme allora fino alla fine vabbè sono sposati praticamente minchia fino alla fine andiamo donna clive è bellissimo comunque incredibile di quanto sia fregno clive legami di sangue fin dove credi si estenda l'influenza di tua madre troveremo la stessa tragedia a sud come al rifugio di marta è probabile quindi sberghiamoci ci sono altri insediamenti fino a porto risolte visiteremo i villaggi e ascolteremo i racconti partendo da under ora basta ma clive è scandalosamente fregno cioè è una cosa incredibile non d'accordo non d'accordo madonna io voglio vedere sua madre io voglio vedere la faccia che fa sua madre appena rivede clive che è ancora vivo madonna voglio vedere proprio come le come le cadono le ovaie così ma che roba di giustizia è mai questa lord elwyn non avrebbe mai permesso cose del genere da ci ci crederanno realisti gil guarda eccoli rosaria ha bisogno di essere epurata dall'onta che la infama affinché ella possa risorgere dalle ceneri per accogliere una nuova alba sono fighissimi però gli scudi sarebbe un peccato punire soltanto voi come esempio a causa delle trasgressioni di pochi altri ma certo vostra signoria avrete la nostra piena collaborazione che vogliono gli scudi neri da un villaggio così piccolo non si può nascondere un portatore qui allora sono qui per qualcos'altro vuoi per caso finire appeso come il figlio del mugnaio? la doppiatrice di Gaia di God of War era non mi ricordo il nome perdonami ma che stava succedendo poco fa? non lo sapete qualcuno sta creando problemi ci sono stati attacchi alla guarnigione rifornimenti rubati addirittura si dice che abbiano ucciso uno scudo nero l'impero vuole risposte e quando vuole qualcosa lo ottiene sempre non hanno limiti tenete gli occhi aperti gli scudi neri pagano molto bene le informazioni sui colpevoli bisogna essere stupidi come un sasso per pensare di combattere l'impero insieme alle sue cento legioni non ho moltissimo ma quello che è mio è tu pagando ah ecco sembrava tipo un comunista nappe cobalto aumenta del 6% la generazione della trascendenza quando si subiscono danni no? skip vabbè li dovrei comprare per completismo in realtà per avere gli oggetti nell'inventario però oh questa la compriamo che è una canzone lo dovrei comprare per completismo però vabbè sì dai ecco a te no no allora cerchiamo di vendere se ce li abbiamo ecco può essere venduto questo no questo sì ne farò sicuramente buono può essere venduto ah questi ne abbiamo ne farò sicuramente buon uso pagherei di più se potessi ok almeno qualche soldino me l'hai ritornato tu li hai visti vero? come scusa? sto parlando degli scudi neri un attimo fa li hai visti non è vero? almeno credo che fossero scudi neri ammetto di non averne mai visto uno è la prima volta che vengono al villaggio tu che cosa ne dici? Amber è nel bel mezzo del nulla è loro che pensavano che nascondessimo dei subillatori magari ti dico così potevo denunciarli e diventare uno scudo subillatori è di scude neri abbiamo della nuova lore Amber un tranquillo aziendamento incastonato tra gli altri picchi della parte meridionale di Rosaria situato molto lontano dalla capitale i suoi abitanti sopravvivono esportando ciò che riescono a coltivare dal terreno raccioso a quel poco che raccolgono dai colli circostanti dopo l'annessione di Rosaria all'impero l'imperatore Silvestre decise di non governare direttamente sulla nuova provincia bensì di delegare la sua amministrazione alla moglie Annabella in precedenza duchessa di Rosaria ah in precedenza duchessa di Rosaria uno dei suoi primi provvedimenti da vice regina fu l'istituzione di un nuovo ordine di cavalieri gli scudi neri inviati in ogni angolo della provincia per mantenere l'ordine tra virgolette finirono in seguito per agire come suo esercito privato risolvendo le sue controverse con i portatori e i lealisti ducali un ordine di cavalieri istituito dall'imperatrice Annabella come uno dei suoi primi provvedimenti da vice regina della neonata provincia imperiale di Rosaria sono incaricati di purificare la provincia eh sì potrebbero essere loro ma il problema è che loro però li cercavano qui quindi salve amici noi siamo viandanti questo lo so che volete? non abbiamo potuto fare a meno di notare i soldati imperiali che erano qui prima non dite niente a questi forestieri parlo a nome degli abitanti del villaggio non abbiamo nient'altro da dirvi dovete lasciare Amber e non tornare mai più posso almeno chiedere il perché? io non so chi siate o perché siete qui ma la vostra presenza ci mette tutti in grave pericolo l'impero è un padrone severo con grandi richieste e giustizia spietata ma se teniamo la testa bassa e paghiamo i tributi loro ci lasciano in pace la chiamano sottomissione ma se serve ad evitare l'ira della vice regina io mi sottometterò volentieri il villaggio non diventerà una seconda pozza orientale allora ce ne andiamo certo sono terrorizzati ovviamente qui vivono con un coltello alla gola credendo erroneamente che se collaboreranno mia madre sarà clemente l'obbedienza ottenuta con la paura va tutto bene? scusa non... non è niente non sappiamo ancora chi cercassero gli scudi neri beh chiunque siano gli imperiali vogliono cercarli in questo angolo dimenticato ma a parte Marta a Rosaria chi avrebbe il coraggio di mettersi contro l'impero un nuovo alleato ci farebbe comodo ma lo troveremo prima degli imperiali mi stava venendo in mente Murdoch ma Murdoch abbiamo visto che ci darà la risposta Murdoch ha preso fuoco quindi è morto ecco vedi villaggio di... ah ecco vedi siamo andati nella parte sud dove prima qua noi non potevamo andare questo passo attraversa le montagne e ci porta direttamente da chi o cosa vuole tenderci un agguato cacciatore dei decaduti scusa ma che ci fanno qua? perché se fossero collegati effettivamente a ultima quindi man mano che noi distruggiamo i cristalli madre loro ritornano sempre più forti è un bel casino stiamo facendo praticamente il gioco sporco di ultima in questo caso vedi qua ci sono anche gli altri ah Pyrrhos addirittura stai ah ecco vedi una sorta di forziere treccia del corno cos'è che mi ha dato? aumenta il 5% i danni da affondo allora io volevo vedere invece tre abilità non posso apprendere niente di che è vero? eh no eh qua ci sarebbe vedi fiamme della rinascita che tra l'altro queste sono le tecniche sono le tecniche finali io ancora non le ho apprese ma piano piano oh i scudi neri? cosa? perché è finita è vero l'ho detto anch'io questa cosa la tecnica la tecnica con thunder con ramu è veramente praticamente presa da kingdom hearts quando con il keyblade potevi praticamente fiondarti o sparare poi successivamente con i nemici è proprio identico questo l'ho detto anch'io ieri quando quando l'abbiamo sbloccato è veramente veramente identico ma ci sono nemici però qua non ci sono forzieri? no qua sembra non ce ne siano perdonatemi se delle volte sono anche un po' più lento però sto cercando proprio di esplorare tutti i buchi possibili immaginabili non vorrei lasciarmi nulla alle spalle però vabbè ovviamente se siete amanti di final fantasy è una cosa che avreste fatto anche voi per cui sono abbastanza tranquillo no ho sbagliato i buchi sì i buchi di mappa Gianfranca altri scudi neri venite qua che vi faccio il culetto è finita dai che sono quasi level up a me non dispiacciono neanche quelle di Garuda sinceramente però però sì fuoco ifrit finisce rimane in pole position anche per me oh aumento di livello taratara tadatada tadatada io però conosco già anche quelle di titano quindi aspetto con ansia di prendere anche titano ancora fresco che cos'è torgal che hai mi era stato dato l'ordine di restare a casa gli scudi neri voi sapete chi siamo eppure osate sfoderare le vostre armi ebbene vi dobbiamo ringraziare ci risparmierete la fatica di un interrogatorio comunque sono fighissimi madonna mi sta sembrando di vedere il trono di spade la notte scura e piena di terrori ah c'è quello che cura vabbè ma essendo in epoca medievale è normale che molti riferimenti al trono di spade siano più che leciti è normale i riferimenti sono più che leciti c'è poco da fa dimmi ciò che voglio e morirai in fretta ci state cercando siete voi vi dobbiamo dare un messaggio abbiamo trovato i vostri amici i marchiati che avete liberato dai nostri campi vi stanno aspettando ad aul di i guardiani della fiamma i cancelli di aul che brutto che era un'animazione che correva e ha saltato anziché aprire la porta ha rovinato il mood ho trovato qualcosa no morte oh porca troio sono quelli che avevano salvato questa è opera di mia madre ma perché perché mai dovrebbe non lo so non l'ho mai capita veramente ma questo oh clive scoprirò quale follia la guida e vi porrò fine dobbiamo andare sì non possiamo lasciarli qui così non lo faremo ma se gli scudi neri sono giunti così a sud potrebbero essere già a porto i soldi ci sono forzieri qui da qualche parte comunque c'è c'è sono delle immagini molto particolari cioè se associamo allora nei final fantasy ci sono sempre stati temi molto maturi molto molto profondi anche in alcuni punti di vista sotto sotto alcuni punti di vista abbiamo sempre avuto comunque dei toni e anche delle tematiche piuttosto importanti però rappresentati con questa crudezza poche e poche volte abbiamo visto abbiamo visto roba simile cioè temi come ovviamente qui in questo caso è un razzismo però un po' più radicato la persecuzione il cioè proprio la caccia quasi no? guardate c'è tutta questa violenza tutti questi morti cioè è molto 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 bello dal punto di vista scenico perché comunque Final Fantasy è comunque un nome altisonante ormai nel mercato videoludico ma al tempo stesso avere la possibilità di renderlo così serio e magari di staccarlo anche un pochettino dalla sua natura un po' più un po' più allegra colorata come si è visto per esempio nei vari Final Fantasy 9 o anche Final Fantasy 8 sotto alcuni punti di vista e renderlo diciamo un po' più un po' più marcato un po' più scuro come come concetto di di storia o anche come Stranger of Paradise che anche su Stranger of Paradise il diciamo il il mood del il mood del gioco era abbastanza serio e anche particolare per me da amante della saga è bello vedere un tasso di maturità così elevato e rappresentato soprattutto in questo modo perché diciamo ci sono ci sono giochi come Final Fantasy 9 dove vengono trattati i temi i temi della morte i temi oddio cos'è i temi cioè ci sono anche nel anche in Final Fantasy 9 ci sono dei temi molto particolari solo che lì almeno per come l'ho sempre visto io sono trattati in modo un po' più fiabesco no? è come se fosse trattato tutto in modo un po' più un po' più fiabesco qui invece è come se tu stessi vedendo un film una serie tv cioè ti immedesimi quasi nei nei personaggi che guardi e nelle vicende che vivi e questa cosa secondo me non è facile da non è facile da fare né per un film per una serie tv ma addirittura per un gioco cioè addirittura in un gioco è molto difficile secondo me dare questa immersività non è che per caso arrivi da Aldil vero l'altro giorno ho visto degli imperiali vestiti di nero dirigersi al porto il mattino dopo c'erano così tanti corvi da oscurare il sole davvero mamma io ho sentito urlare in fondo alla strada smettila dicono che c'è il coprifuoco e poi non ci fanno tornare nelle nostre case è tutto bloccato ma anche nel 10 ci sono ci sono temi temi particolari anche nel 10 c'è il tema della morte il il trapasso l'amore il separarsi dalle persone amate cioè in tutti i Final Fantasy ci sono dei temi ovviamente particolari più o meno pesanti rispetto ad altri capitoli però sono sempre stati trattati o almeno per come li ho sempre visti io sono sempre stati trattati in maniera un po' più romanzata un po' più un po' più fiabesca a me il termine il termine che probabilmente mi calza al momento è fiabesco ma non per sminuire un concetto ma per dargli un nome per per permettere comunque di di poterlo analizzare in modo critico no io solo il tuono agilmente sbloccato vabbè poi diciamo che comunque nel 9 il tutto viene smorzato anche dalla componente dialettale che è prettamente italiana è un quid in più che nella versione italiana è stata inserita anche esatto per smorzare un po' un po' il tutto invece qui proprio c'è notate come qui proprio il mood è sempre pesante è sempre è sempre un qualcosa che non ti fa che non ti fa fare un sorriso c'era Seed che faceva qualche battuta una volta ogni tanto ora Seed è passato a miglior vita quindi diciamo che ora anche quel piccolo quel piccolo intermezzo non c'è più sì è vero l'assonanza l'assonanza con il trono di spade è molto molto indicata e non posso dire che non è vero perché essendo anche in periodo medievale essendo comunque sviluppato anche diciamo in questo in questo periodo storico che ovviamente si avvicina molto al periodo medievale è ovvio che la prima cosa che ti viene in mente sia il trono di spade qua ci sono i granchi che ora spuntano fuori ah no eh sì quindi quindi è normale che i riferimenti siano rettamente indirizzati sul trono di spade ed effettivamente è come il trono di spade perché anche nel trono di spade il mood è comunque pesante cioè ci sono scene nel trono di spade che sono incredibilmente violente e sanguinose anzi qui come violenza e sangue ne abbiamo visto in modo discreto non in maniera neanche abbondante se devo essere sincero ne abbiamo visto il giusto su Final Fantasy XVI in Stranger of Paradise sa anche se era visto tipo l'intro e tutta insanguinata però poi nel resto del gioco non c'è molto ma qui invece proprio la pesantezza l'avverti e a me piace questa cosa mi piace tanto si sono d'accordo con Abisso meglio là fuori che qui dentro adesso spalete spalete ripetiamo quei bastardi i cristalli appartengono a tutti brutte pelle di buttare io ho detto di sparare tornatevi nel torcino e ammazzeremo tutti sul posto provateci impossibile entrare di nascosto troviamo un altro modo allora sul fatto di avere un PG solo a me in realtà non mi dispiace la cosa perché mi posso immedesimare meglio nel protagonista anziché affezionarmi a troppi PG che poi muoiono poi vabbè diciamo che il party qui viene rappresentato più dagli Acon il fatto che tu possa cambiare gli Acon è come se tu cambiassi i membri del party tra virgolette che ovviamente non è così però viene rappresentato da quello poi è vero che c'hai i membri del party che sono praticamente dei cetti però a me sinceramente il fatto di avere un personaggio solo non mi dispiace non mi dispiace luce nell'oscurità la buona notizia è che non abbiamo visto un solo scudo nero dopo forse hanno trovato chi stavano cercando io sinceramente non mi lego tanto al fatto di avere un team con tanti personaggi sinceramente cioè può essere bello dal punto di vista narrativo perché comunque puoi avere tanti personaggi che interagiscono tra di loro hanno modo di poter di potersi confrontare li utilizzi poi magari ti affezioni eccetera eccetera però io personalmente questa roba non l'ho mai avuta come non è affatto come lo ricordavo cioè io mi sono sempre fissato di più sulla storia cioè a me finchè la storia mi piaceva mi teneva incollato potevo utilizzare anche un solo personaggio dieci cento mille non avrebbe cambiato nulla perché a me appunto quello che mi interessa fondamentalmente in tutti Final Fantasy che ho giocato è sempre stata la storia cioè se hai una storia fatta bene il resto per me è anche trascurabile ma non perché non ne valga la pena semplicemente perché poi subentra il gusto personale quindi ovviamente c'è chi può piacere il team composto da 6, 7, 8 persone e chi invece magari si accontenta di uno solo anche in Stranger of Paradise avevi il team il team da 3 ma io giocavo da solo per esempio per cui su quello è tutto gusto soggettivo è tutta una cosa soggettiva e invece bell'imboscata poi sono anche d'accordo con quello che aveva scritto Abisso che appunto Final Fantasy si è evoluto molto bene nel tempo e ha cercato comunque di ha cercato comunque sia di di evolversi anche con il pubblico che aveva a disposizione cosa cosa che non tutti i brand hanno fatto un po' per per comodità un po' per appunto brand che ormai si era focalizzato su un particolare pubblico quindi quindi poi la il discorso non sono un fan di Pokémon io per esempio però è vero che è rimasto molto 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 legato ai bambinetti conoscevo un solo uomo che combatteva così ed è morto da tempo forse è il momento che tu lo raggiunga ma questo è Wade? è Wade? può essere ero lì quando siete morto è lui è Wade? cioè no chi era Wade o l'altro? perdonatemi mio signore non sapevo chi foste non avete niente da temere da noi pazzesco siete proprio voi è così è Wade quindi è lui che si ribellava potremmo parlare dentro scusa ma com'è sopravvissuto è quello e quelli che non si sono sottomessi siamo scappati prima che l'impero ci punisse come modello ma non siamo andati molto lontano poco più tardi ci siamo radunati e abbiamo formato i guardiani della fiamma maimè un pugno di scudi invecchiati non ha praticamente nessuna possibilità contro la forza di un potente impero però abbiamo fatto in modo che il loro soggiorno non fosse affatto piacevole tuttavia ultimamente siamo stati impegnati a cercare di tenere i pochi portatori del ducato lontani dalle grinfie degli imperiali le epurazioni abbiamo visto che ne è stata ad Aldil già a opera degli scudi neri e della loro signora parli di mia madre però non ha senso anche conoscendola quanto me si ha sempre odiato i portatori ma non ignora l'elevato valore che hanno per il regno senza offesa mio signore ma se non l'avete notato a Lady Annabella non importa assolutamente nulla del regno le importa a malapena della sua stessa casa e questo è diventato evidente dal massacro di Pozza Orientale inoltre dopo aver dato un nuovo erede al sacro imperatore l'ossessione che ha verso i portatori è solo aumentata il motivo è un mistero un nuovo erede quindi hanno fatto un altro figlio che qualcuno abbia il potere di sfidare il suo amato figlio letto suo figlio Sir Wade gli scudi neri sono partiti marciano in forze verso il ponte di Bewitt faremo così anche noi preparatevi è il contingente principale se gli tagliamo la testa forse forse potremo impedire che quello che è accaduto al porto possa ripetersi altrove se non interverrò le prossime vittime graveranno sulla mia coscienza la tua e la nostra anche noi abbiamo assistito ai crimini che coloro che osano definirsi scudi commettono per mia madre non possiamo più permetterlo dobbiamo fermare subito questa follia è vitale perciò verremo con te per il prezioso bene di Rosaria speravo proprio che l'avreste detto molto bene se è quello che volete io sarò onorato di combattere al vostro fianco e lui sta facendo rinascere il casato di Rosalith quasi dal nulla questo compito richiederà ben più del solo ingegno se Sir Wade ha un buon quartiermastro allora io invece ecco voglio vice regina distretto di launa esclusiva area residenziale città di Amura situata appena fuori dai confini orientali di Porto Isolde un tempo era il fiore all'occhiello delle città e ospitava molti nobili del Ducato tuttavia dopo che l'impero ha trasferito la propria capitale nel dominio cristallino Porto Isolde è stato abbandonato e quello che era un distretto riservato all'élite è stato presto occupato da ladri e tagliagole Sir Wade fedele scudo di Rosaria sebbene fosse stato ritenuto morto durante l'attacco a Porta Fenice è riuscito a sopravvivere cioè praticamente sono sopravvissuti tutti forse l'unico che veramente non è sopravvissuto sono Wardok che si è visto praticamente incenerirsi durante lo sfogo della Fenice e l'altro quello con i capelli rossi che non mi sta avvenendo il nome perché praticamente era ferito e poi anche lui è stato investito dall'ondata della Fenice è riuscito a sopravvivere non solo al disastro ma anche alla successiva conquista da parte dell'impero insieme ad altri scudi che condividono le sue idee si è stabilito nel Lazarus abbandonato e ha formato i Guardiani della Fiamma fratelli d'armi che si battono per la restaurazione del Ducato i Guardiani della Fiamma un gruppo clandestino di lealisti ducali che guida la di Bellione contro l'occupazione imperiale di Rosaria e l'imperatrice Anabella molti di loro sono sopravvissuti all'attacco imperiale a Porta Fenice nell'anno 860 e sanno bene del ruolo dell'impero nella caduta del Ducato risiedono nel distretto abbandonato di Lazarus fuori dal porto i soldi da dove conducono le loro incursioni per liberare i portatori dal gioco imperiale epurazioni dove essere stata nominata viceregina dei territori rosariani appena annessi l'imperatrice Anabella fondò una legione di soldati leali gli scudi neri per mantenere l'ordine per mantenere l'ordine semmeno annunciati come custodi della pace il loro vero obiettivo consisteva nel compiere le cosiddette epurazioni brutali massacri di portatori locali e di chiunque le avesse sostenuti le uccisioni erano rapide indiscriminate con gli scudi neri impiegati come giudici giuria e boia e solamente il caos e solitamente il caos che si lasciavano alle spalle era sufficiente a ridurre e rovina interi insediamenti e anche sir wade è sopravvissuto direi ci avete risparmiato quando avreste anche potuto mandarci al tappeto quindi dimmi dimmi grazie quello è il figlio dell'arciduca quello che andava a 700 km come onizuka che c'era quello che fa quello che andava a 700 km e la benedizione dei cristalli sia con voi dici tutto sir wade qual è il tuo piano non è niente di che voi Lady Jill e io andremo al ponte di Beowitt e cercheremo di provocare il contingente principale quando vedranno l'occasione di sterminare i guardiani gli scudi neri chiameranno di sicuro i rinforzi che verranno assaliti alle spalle da gruppi di miei fratelli che si nasconderanno sulle colline questo ci permetterà di combattere per il ponte senza il rischio di essere travolti sebbene gli scudi neri siano in vantaggio numerico preferiscono combattere in piccole unità il che si rivelerà a nostro vantaggio unità quanto piccole? piccole abbastanza adesso che voi Lady Jill siete con me da solo non credo ce l'avrei fatta ma comunque era il tuo piano anche prima di noi non sei cambiato di un millimetro Sir Wade abbiamo seppellito i portatori di Auldil ben fatto preparatevi alla battaglia agli ordini grazie Sir Wade adesso troveranno la pace troveranno la pace solamente in un modo se elimineremo per sempre gli scudi neri allora lo faremo membri del gruppo durante lo scenario principale Clive sarà spesso affiancato da vari compagni desiderosi di prestare la loro assistenza tuttavia a seconda della destinazione di Clive potrebbero scegliere di restare al rifugio vedi quindi ce ne sono quelli che mi seguiranno sempre o quelli che mi seguiranno solo in altre occasioni li terremo alla larga che la benedizione della finice sia con voi da quanto state inseguendo gli scudi neri da quando hanno bruciato il primo villaggio abbiamo trovato i bastardi responsabili e gettato i cadaveri ah ecco Wade è con me adesso vedi quindi loro verranno al rifugio probabilmente dopo potrei chiamare il Chocobo ma in realtà non voglio farlo voglio andare a piedi anche perché la distanza non è tanta quindi per loro che non lo vengono eccoli lì attendiamo l'ordine signore all'attacco che cosa c'è ora vi ho già detto che abbiamo un messaggio per la vice regina da parte dei guardiani della fiamma quindi tu hai davvero il coraggio di dirmi che un misero paio di luridi vagabondi una donna e un cane pensano di fare qualcosa contro la forza degli scudi neri beh fatemi sotto hai di fronte il dominante di Ifrit e la dominante di Shiva comunque e io tra l'altro anche Garuda e Ramù e Rosaria la vostra sciogga rivoluzione finisce qui lo giuro sulla lama delle nostre spade Maledizione rinforzi dalla sponda opposta aia 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 altri draghi gli imperiali non vogliono correre riso sarei quasi lusingato o il dragun nobile tentativo davvero madonna che figo assolutamente inutile tutto questo non fa che dimostrare la nostra teoria che questo dannato regno ha necessariamente bisogno di un'epurazione è bellissimo è bellissimo aia 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 Maledizione non resta nessuno a tenerli impegnati dobbiamo finire in fretta devi dire finirlo aia 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 i aia Ah, chiusura cinematografica pure. Abbiamo spedito dritto nel fango fino all'ultimo di quei bastardi! Mio... Signore, forse questo basterà a fermare le epurazioni. Beh, per il momento almeno. Forse. Anche se mia madre non la prenderà bene. Si muoverà in fretta per riempire i ranghi dei suoi seguaci. La prendiamo noi tua mamma, tranquillo. Spesso mi chiedo se la nazione di un tempo sia ormai morta. I campi muoiono. Il popolo è affamato. Noi combattiamo per preservare la fiamma, ma per ogni nemico che abbattiamo ne arriva sempre un altro. Ciò nonostante, resta la nostra patria. Quindi ci batteremo per lei. È sempre stato così. E sempre lo sarà. Finché la fiamma della Fenice arderà ancora nei nostri cuori, il Ducato non morirà. I suoi sudditi continueranno a sognare il giorno in cui lo stendardo rosariano svetterà di nuovo su Rosalie. Servì, Dio. Dite di ritirarci a porto Isolde prima che la guarnigione mandi rinforzi. Ottima strategia, mio signore. Cioè si è autofatto la strategia. Da quanto tempo mio zio finanzia le operazioni tue e dei tuoi compagni? Fin dall'inizio. Lord Byron è il primo a cui mi sono rivolto dopo aver fondato I Guardiani. E se avessi saputo di questa galleria, non avrei rischiato di essere impiccato per aver provato a sgattaiolare oltre le mura. Mentre una richiesta ufficiale di udienza sarebbe sembrata sospetta. Bisogna cercare di mantenere le apparenze. Se la vice-regina dovesse venire a sapere del coinvolgimento di Lord Byron, gli sequestrerebbe la tenuta e lo giustizierebbe. E non potrebbe più aiutare nessuno. Quindi, anche se ne ha alquanto disgustato, recita ancora la parte del Lord reale, sapendo che una mossa falsa significherebbe la sua rovina. Per questo motivo lui resta sempre vigile. Non stupitevi se vi rifiuterà udienza, visto che siete notoriamente morto. Dovrò trovare il modo di dimostrargli che non sono uno spettro o un truffatore. Per il truffatore ho qualcosa che può aiutarvi. Ah, la spilla, il sigillo. È il simbolo dei Guardiani. Mostratelo e chi ha a cuore rosaria saprà subito a cosa siete fedele. Esatto. Sigillo della lama bruciata. Lo porterò con orgoglio. Assicuratevi di farlo. Non voglio che i miei vi attacchino ancora. Solo se lo meritate. Se Sir Tyler fosse qui per vedervi... Ecco, Tyler. Il Lord comandante. Oh, grazie, Sir Wade. Eh, ho suo padre. Se fosse servirti qualcosa, lo so. Andate, mio signore. Ah, quindi lui resta qua. Non viene al rifugio nostro. Hmm. Vabbè, ci sta perché loro hanno l'insediamento là, giustamente. Ma fatemela vedere la zoccola. Dov'è? Vediamo... Eccola. No. No, tenuta di Rose... Dei Rosefield. Strano che anzi non gli hanno fatto niente. Crederanno al fatto che siamo chi diciamo di essere. No, ne dubito. Vediamo se lo zio è fregno pure. Probabilmente per mio zio saremo impostori che vogliono derubarlo. E vorrà impiccarci di persona. Immaginate la sorpresa quando mi è stato riferito che mio nipote era qui. Clive Rosefield è morto da molto tempo. E vi mozzerò la lingua per aver infanigato il suo nome. Fagli vedere il potere della Fenice. Ah no, gli sta facendo vedere... L'addestramento dello scudo di Rosaria. Sì, posso mettermi in giro? Sono io, Sir Crandall di Camelot. Leale servitore di sua serenità. Santa Sibyl. La scalza. Oh no. Madu, vile stregone. Per i tuoi crimini contro la chiesa e la corona mi prenderò la tua testa. Ok. Maledetto, bell'imbusto, pomposo, anche da morto. Devi continuare ad affliggermi. Molto bene. Aprirò i portali degli inferi affinché tu possa sprofondarvi nuovamente. Complimenti, zio. Sei ancora il miglior Madu dei Genelli. Era un'opera teatrale. Oh, Clive. Mio caro ragazzo. Sei davvero... Che bella questa scena. Oh, 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 oh. Hai sempre amato quella scena tratta dalla santa e il dissidente. Volevi sempre interpretare, Sir Crandall. Devo chiederti un favore, zio Byron. Rutherford, avverti subito le cucine. Abbiamo degli ospiti. Ce ne remo immediatamente. Ma, zio... Non vorrai condividere con me il racconto della tua miracolosa sopravvivenza a stomaco vuoto. Forza, sedetevi. E tira fuori il servizio buono, Rutherford. Il servizio buono. Quindi siete arrivati tardi a una delle sue epurazioni. Divenuta viceregina, Annabella è stata una costante spina nel fianco per tutti, a Rosaria. Ma queste atrocità non sono accettabili. È cambiato qualcosa. Che cosa? Non ne ho idea, ma... La donna che conoscevamo... Non c'è più. È diventata un mostro. Un mostro? Nel bene e nel male mi hanno affidato il governo di questa città. Quindi, devo mantenere un'illusione di obbedienza. È il massimo che posso fare per aiutare Wade e la sua banda. Abbiamo saputo. Hai rischiato per Rosaria. La nostra nazione ti sarà debitrice. Sono passati vent'anni, Clive. La nazione che tuo padre e gli antenati volevano difendere non esiste più. Se avessi avuto più coraggio, sarebbe diverso. Va bene. Se quello che ti occorre è una nave, allora avrai una nave. Ho giusto una galea attraccata in porto e già scaricata. Posso prepararla nel giro di qualche settimana. Quindi ci credete? A ogni cosa? Credervi? Per credere anche solo alla metà di ciò che dite dovrei essere uno sciocco. Ma fino a stasera solamente uno sciocco avrebbe potuto credere che mio nipote fosse ancora vivo. Inoltre, so da fonte certa che Clive sta dicendo la verità. Quale fonte? La tua, naturalmente. Sei sempre stato un pessimo bugiardo. Ma è vero. Beh, non posso negarlo. Ma non aggiungiamo altro. Non vorrei soffermarmi troppo sul punto debole di mio nipote. Uh! In effetti però ci sarebbe una cosa a cui ho difficoltà a credere e cioè che tu sia Seed. Sei sempre stato un bravo ragazzo. Ma ora sei diventato un fuorilegge. E questo di conseguenza fa di me lo zio di un fuorilegge. Ahahahah! Bene! Quale villaggio vogliamo razziare? Rutherford? Portami subito la mia sciabola! Quale villaggio vogliamo razziare? Sarà molto divertente. Jill però è strana. È molto strana Jill. C'è qualcosa che ancora non sappiamo di Jill. C'è qualcosa che ancora ci sfugge di Jill. Ecco, forse... ...minacciando altre persone. Così divenni la loro marionetta. Lasciai che mi manovrassero, dicendomi che non era la mia mano a brandire la spada, ma la loro. Decisi di fuggire dalla verità per non provare il dolore che comportava. E a poco a poco non provai più nessun sentimento. Ero... ...diventata... ...un mostro. Jill. Non voglio essere un mostro, Clive. Lo capisci? Voglio scegliere una strada diversa. Una strada migliore. Vivere alle mie condizioni. Ma prima di poterlo fare... ...devo riuscire ad accettare il mio passato. Quando lo farai... ...io sarò al tuo fianco. Come hai fatto tu con me. Grazie, Clive. Devo espiare i miei peccati. Solo allora, finito tutto, quel mostro scomparirà. non dovrei morire insieme a lui. Ora, dormiamo un po'. Benno mi era lontana e c'è molto da raccontare agli altri. ci ho sperato fino all'ultima. All'ultima. niente, e neanche oggi il bacio non c'è stato. Allora, siamo costretti a tornare al rifugio, perché non possiamo fare altro per il momento. Un paese di mostri. Solo il fondatore sa che ci aspetta nel regno di ferro. o ci sono altre sidequests? Altre sidequests di cui una con un più. Va bene. Allora, l'altra sidequest abbiamo visto che è collegata alle cacce, quindi per ora non la vado a fare. Non ci sono altre sidequest qui nella zona, quindi va bene. Va bene così. Io mi metto qua. Anzi, sì, mi metto qua. E con il bel faccione di Clive, ragazzi, io vi auguro una buona notte. Ringrazio tutti quelli che sono stati fino alla fine. Quelli che mi hanno fatto compagnia. Ringrazio anche i nuovi follower. ringrazio tutti quelli che sono stati fino alla fine.